Amici dello sportello del cittadino, scusate il bisticcio di parole, ci troviamo proprio dinanzi allo sportello del cittadino, qui a Taranto, sportello del cittadino, punto informazioni turistiche, Taranto via piazza Garibaldi. Una struttura davvero bella, è un bel chioschetto che era nato per dare informazioni turistiche, per essere un momento di contatto tra il turista che arriva a Taranto e i vari funzionari, i vari addetti che forniscono appunto le informazioni sulle bellezze di Taranto, sui percorsi turistici, insomma dicono cosa vedere e come scoprire la nostra città. Una bella struttura, la vedete, bella ampia, anche devo dire elegante, in stile del danaro pubblico che uno potrebbe dire è stato giustamente spesso, dov'è l'inghippo, dov'è l'orrore e che questa struttura da un paio di anni o forse anche più, ma almeno un paio d'anni è chiusa, non è più funzionante e abbiamo questo mausoleo chiuso di tal che immaginate il turista che arriva qui, perché stiamo parlando di piazza Garibaldi attaccata a piazza della Vittoria, siamo nel cuore, è come dire il cuore del cuore di Taranto, passatemi quest'altro bisticcio di parole e uno dice beh a questo punto mi avvicino, chiederò informazioni per sapere qualcosa, quali percorsi seguire, sapete il turista arriva e non conosce nulla della nostra città e trova tutto chiuso, uno spreco di danaro pubblico. Allora io dico, cara amministrazione Melucci, caro assessore Tilger, vice sindaco Tilger, assessore alle attività produttive e al marketing e io leggo le iniziative, le belle parole, i progetti di Valentina Tilger e su questo devo dire, su questa visione non provinciale ma aperta di sviluppo del territorio mi trovo perfettamente d'accordo, però tutte queste belle parole, questi progetti magniloquenti vanno a cozzare, vanno a sbattere il muso contro la dura e cruda realtà, come in altre circostanze vi abbiamo fatto vedere il degrado assoluto, allora noi non possiamo parlare di sviluppo del territorio, di offerta turistica quando troviamo le erbacce in pieno centro, in pieno centro alte un metro e parimenti non possiamo parlare di marketing del territorio, di sviluppo, di progettualità, di strategie, belle parole che usa l'assessore Tilger, il vice sindaco Tilger quando poi troviamo una struttura chiusa, guardate informazioni turistiche, sportello del cittadino, ancora sopra informazioni turistiche, tutto chiuso, eppure quanto costerebbe signori cari mettere una persona qui dentro a dare informazioni, è tutto pronto, non è che dobbiamo ex novo costruire un punto di informazione, un punto di accoglienza per il turista, ecco che io dico dall'iperuraneo delle idee, vice sindaco Tilger, da questo iperuraneo alla miseria, al nulla cosmico e assoluto che purtroppo c'è a Taranto e questa bella struttura, questo chioschetto è l'ennesima prova di un'amministrazione che sogna, sogna tanto ma poi produce davvero pochissimo, quasi nulla.